ma ragazzi ma dove cazzo vado sincero sarebbe da rischiarla tutto uso la zipline e preghiamo la madonna uso la zipline all'ultima prego la madonna tengo l'impulso in mano casomai impulso via forza 5 secondi devo salire diamo l'impulso e ce ne scappiamo preghiamo il signore dai tutti insieme abbiamo maria grazie god e mo allora sopra c'è sta quel coglione qua chi c'è sta nessuno no non è safe e tu cazzo me metto eh ragazzi a puzzare basta prega il signore vabbè ragazzi ma è un punto morto questo ma che fa quello lì con la d spero c'ha la d impressa in fronte al posto di machinbu c'ha la d promedario? dai dai tenta di gente dai dai tenta di gente ah eh si ma pull il cittando pescoschi allora quella linea kill ragazzi l'avete visto o quello? che sembra un coglione mi giuro che il diavolo il culo gli ci viscio te spillata ho detto era ritardato no non è vero cioè era un bravo un po' che si fa che fai le coca? eh cerchi di andare ma che devo fare? ma che sto vedendo? eh vado le hit c'è ci fai portate che ci ho portati? poi lo dici no c'ho solo le bombe a mano ah qua è da fare di nuovo bibitone il tuo impulso e e sperare il cristo di dio buonasera 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 dammi i piedi dammi i piedi piedi belli piedi rossi non entrare non entrare coglione che vanshack non entrare dai questo non potevo vedere dai c'ho l'ansia come si gioca nel noobildo così? proprio sopra mi guarda qua dove? sai che se fa? si fa l'andranche da come si fa l'andranche? eh ma te la spiego no ma non l'hai presi portate? ovvio ve l'ho preso voglio ne bastate ma tanto dio ma quanto cazzo di 10 stavo? 10 secondi non ti voglio dire più non solo 10 non ti voglio più parco dio ma quello sta pulcittando frate dai dai frate ma quello sta pulcittando non pusharmi? al serio? uh bro ma sto tiro di te ma ti vedi? dai non cittare porco dio eh bastardi uh no no non stava tornando puttolo ah a tutti i funghi vengo vieni, devi curare aia, fallo entro, fuori Ecco Ciao Sono morto Tutto all'aria Quindi ma come cazzo si vengono le partite in un build Allora letteralmente questo è arrivato in end E c'aveva ancora 8 impulso Come cazzo